Musica Oggi presentiamo l'Abruzzo Open Day Summer 2018 è una serie di eventi insieme che fanno vedere quel turismo esperienziale, quelle novità, quella bellezza della nostra regione a tutti quindi coccoliamo i turisti, vogliamo portare i turisti qui da noi turisti che vogliono fare qualsiasi tipo di turismo che poi è la caratteristica del nostro Abruzzo, si viene in Abruzzo perché si può fare turismo sportivo, turismo emogastronomico, turismo culturale turismo lento, turismo esperienziale, tutti quelli che sono i tipi di turismo che si conoscono e di cui alcune parti dell'Italia si fanno forti noi puntiamo molto su questo e con questi eventi che si ripeteranno fino al 30 giugno che coprono tutto il territorio regionale vogliamo coccolare i turisti che sono qui e invitarli quindi a tornare e anche a comunicare ad altri amici, persone che è bello venire qui in vacanza in Abruzzo e magari l'anno successivo tornare qui da noi magari accompagnati da altri amici quindi creare un gruppo di persone che poi sono anche un veicolo diciamo di immagine per la nostra regione quindi ha oltre tutto quello che noi faremo con spot televisivi che avranno il compito proprio di far vedere quanto è bella il nostro Abruzzo e quanto è bella l'Abruzzo Open Day e anche questo proprio di coccolarla quando vengono qui da noi in maniera da farli tornare e insieme ad altri amici e così diciamo diamo quell'immagine reale di una regione che è ospitale che è una regione bella che offre tante tante novità e che ha quell'effetto wow quando si viene in Abruzzo molte volte non mangiavamo che l'Abruzzo fosse così bello e questo vogliamo fare è un'altra regione